riconoscimento alla valorizzazione e alla professionalità dei magistrati onorari. Il deputato del Mastro delle Vedove, a facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario. Grazie Presidente. Ancora una volta in splendida ma orgogliosa solitudine, Fratelli d'Italia avverte l'esigenza di sollevare il problema della magistratura onoraria dei giudici di pace in quest'Aula. Un vero e proprio esercito di 5.200 magistrati che portano sulle loro spalle buona parte del peso del funzionamento della giustizia italiana. Eppure si tratta di un esercito di precari che voi volete continuare a mantenere precari, senza trattamento previdenziale, senza trattamento assicurativo, senza ferie, senza malattie. e una recentissima sentenza del Tribunale di Sassari ha riconosciuto finalmente lo status di lavoratore subordinato in capo ai magistrati. Con tutto ciò che ne sconsegue fatalmente in termini di trattamento economico previdenziale ed assicurativo. Ecco, con l'interrogazione in esame stiamo a chiedere, a fronte anche di questa sentenza tombale sulla vicenda del Tribunale di Sassari, quali siano gli intendimenti di questo Ministro, al fine di riconoscere e valorizzare la professione dei magistrati onorari e dei giudici di pace in Italia, trattandoli come onesti servitori dello Stato e non come schiavi di Stato. Il Ministro della Giustizia, Alfonso Benefieri, ha facoltà di rispondere. Prego. Il tema proposto dagli interroganti, come noto, è da sempre in cima all'agenda del Ministero, che intende continuare ad occuparsi della magistratura in onoraria, rivolgendo l'attenzione che si deve ad una parte importante, direi essenziale, del sistema giustizia. Più volte, parlando della magistratura onoraria, ho parlato di un vero e proprio pilastro del sistema giustizia. Si è cercato, con la proposta normativa in itinere, di tener conto del necessario bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze della categoria e la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria nell'ottica di valorizzare l'apporto di coloro che già da tempo svolgono l'incarico di magistrati onorari. Il testo di riforma in discussione in Commissione giustizia prevede allo Stato un regime di cosiddetto doppio binario con possibilità per i magistrati onorari già in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge Orlando di scegliere tra lo status attuale con previsione di pagamento cosiddetto accottimo oppure di optare per il pagamento di un'indennità fissa che è stata innalzata rispetto alla legge Orlando. Il testo prevede anche che i magistrati onorari impegnati nell'ufficio del processo sia corrisposta all'indennità giornaliera di 98 euro finora prevista esclusivamente per i magistrati onorari che svolgono funzioni giudicanti. Inoltre sono stati proposti una serie di interventi migliorativi per tutta la categoria che gioveranno anche alle future generazioni di magistrati onorari come a dirsi per la disciplina dell'incompatibilità che viene uniformata a quella più elastica prevista per i magistrati togati. Il pagamento dei compensi con cadenza bimestrale è la possibilità di ottenere trasferimenti a domanda al fine di assistere a un familiare con disabilità. Ulteriori miglioramenti potranno senz'altro essere apportati nel corso dei prossimi lavori parlamentari in un clima di proficuo confronto con l'attuale maggioranza di governo con la quale sul tema si sta già lavorando. Io considero la proposta che è attualmente all'esame del Parlamento un buon primo passo su cui però le forze politiche di maggioranza e opposizione avranno la possibilità di apportare tutti i miglioramenti e da parte del mio Ministero e della maggioranza ci sarà sicuramente grande disponibilità per portare avanti questo confronto e questo percorso di miglioramento atteso che, su questo non condivido quanto è stato detto in precedenza atteso che non c'è la solitudine di una forza politica ma posso certificare che tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione in più occasioni si sono espresse proprio a favore del riconoscimento dell'importanza con fatti concreti della magistratura onoraria tra l'altro è stato presentato un emendamento al cosiddetto decreto mille proroghe volto a consentire una proroga dell'entrata in vigore del regime previsto dalla legge Orlando proprio al fine di preparare un intervento riformatore organico sulla materia riguardo alla sentenza del Tribunale di Sassari mi premerebbe dire che non è mia abitudine commentare le decisioni le pronunce giurisprudenziali preferisco invece rinnovare il mio impegno a collaborare per garantire alla magistratura onoraria il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità già dimostrata grazie grazie a facoltà di replicare il deputato del Mastro delle Vedove grazie Presidente se mi consentite la battuta nonostante l'affardata dall'infausto giorno del suo insediamento al di Castello della Giustizia siano passati ormai due anni e fatica ancora a comprendere la differenza fra dolo e colpa ha già imparato però complessivamente molto bene il linguaggio di quel politichese che voi avrete dovuto sconfiggere non mi ha dato una sola risposta su quell'esercito di 5.200 servitori dello Stato che ancora oggi dopo due anni dal suo insediamento in fausto ancora sono trattati come serve di Stato eppure lei sa o dovrebbe sapere che i vice procuratori onorari decidono più del 60% dei procedimenti penali sa o dovrebbe sapere che la magistratura onoraria decide più del 60% delle cause civili e penali di primo grado in Italia eppure lei sa o dovrebbe sapere che vi sono competenze specifiche del giudice di pace in termini penali e civili che aiutano a far andare avanti la giustizia lei sa o dovrebbe sapere che senza la magistratura onoraria i giudici di pace la giustizia in Italia si ferma e lo dovrebbe sapere se non perché ha studiato perché glielo ha scritto il procuratore Spataro unitamente ad altri 108 procuratori d'Italia perché glielo ha scritto la Corte di Giustizia Europea che le ha detto di stabilizzare i magistrati onorari perché lo ha detto una sentenza del Tribunale di Sazzari che ha riconosciuto il lavoro di subordinato in capo ai magistrati onorari e che pretende un trattamento equo sotto il profilo retributivo, assicurativo e previdenziale dalla sua risposta nulla di tutto ciò poteva risponderci che si accinge ad approvare la legge di Fratelli d'Italia che prevede che i magistrati onorari permangano in servizio che fa andare avanti la legge di Fratelli d'Italia e poi i magistrati onori rimangono in servizio come gli ordinari fino allo svolgimento delle funzioni che abbiano trattamento previdenziale retributivo, economico e assicurativo uguale stando con noi a militare dalla parte dei diritti e invece la sentenza politica su di lei è già calata senza appello e senza prescrizione come piace a lei perché lei ha deciso di stare dalla parte dei privilegiati e non aprire la finestra a coloro che sono qui a pretendere diritti negati e che solo noi dipendiamo passiamo all'interrogazione numero 3